Allora, dottoressa Simoncelli, si è creato un po' di confusione a riguardo di quel comunicato della CIS che parlava di servizi territoriali, di fisiatria, cioè chiariamo un po' i concetti e cerchiamo di far capire bene qual è lo stato delle cose. Sono molto contenta di poter chiarire le affermazioni che sono state fatte il 3 novembre ultimo scorso, se non erro, dal signor Giovannelli. La dichiarazione esattamente riguarda la scomparsa del servizio di fisioterapia presso l'ospedale di Fano. In merito, preciso che il centro ambulatoriale di Marche Nord, ubicato nel presidio ospedaliero di Fano, svolge regolarmente la propria attività, prendendo in carico pazienti in fase post-acuta con disabilità multiple e complesse di ordine neurologico come ictus cerebrali oppure di ordine ortopedico come artroprotesi di anca e di ginocchio, nonché disabilità di ordine cardiologico, tipicamente gli esiti di infarto del miocardio. Naturalmente la nostra attività, e qui è importante precisarlo, in coerenza con quello che è il mandato di un'azienda ospedaliera, perché oggi noi siamo un'azienda ospedaliera, non è rivolta al paziente con disabilità cronica e in questo si inserisce l'intervento del signor Giovannelli. Ma per questa problematica è doveroso fare riferimento ai servizi territoriali dell'Asur, dell'Area Vasta 1 e non all'azienda Marche Nord, che sono due aziende diverse con funzioni e finalità diverse. Le nostre risorse sono e devono essere infatti impiegate nella gestione riabilitativa dei pazienti ricoverati nelle unità operative per acuti, nei reparti per acuti di Fano, di Muraglia, di Pesaro, ed è quello che facciamo. E inoltre nella presa in carico dei pazienti ambulatoriali, ma pazienti post-acuti, pazienti che sono ancora entro i 12 mesi dall'evento acuto. Ricordo da ultimo che sono state dall'inizio dell'anno seguiti numerosi pazienti, 1100 pazienti ambulatoriali e 1650 pazienti ricoverati. Pertanto non si tratta di un servizio né scomparso né in fase di scomparsa. Intendo così rassicurare quegli utenti che si sono presentati dopo l'intervista del signor Giovanni Giovannelli al nostro servizio molto preoccupati.